E' un po' difficile che mi possa commuovere. Le vostre parole per me, per noi che siamo più presenti, il capitano, il brigadier, il maresciallo comandante della stazione, gli altri militari, sono le più belle parole che abbia mai potuto sentire in 26 anni di carriera. E io parole belle ne ho avute. Abbiamo avuto, io ho avuto encomi, ho avuto medaglie per cavalierati, ho avuto cittadinanza in oraria.